Buonasera e bentrovati al nostro appuntamento, torniamo all'appuntamento con le nostre chiacchierate che dedichiamo a personaggi interessanti, significativi anche del nostro territorio. Questa sera abbiamo un personaggio che in realtà rappresenta poi una realtà, un'associazione che in questi anni si è davvero fatta conoscere in tante occasioni per la propria attività. Parliamo del gruppo antimafia Piolatore di Rimini, abbiamo qui con noi la rappresentanza di questo gruppo, Patrick Wilde. Buonasera. Buonasera a voi. Avvocato Patrick Wilde, visto che siamo freschi di… Recente, recente. Dicevamo il gruppo antimafia Piolatore che forse è un po' anche quello che è stato più alla ribalta in questi anni di una realtà interessante che si è sviluppata a Rimini per quanto riguarda l'attenzione sui problemi delle infiltrazioni ma anche sulla promozione della legalità su tante iniziative, oltre al Piolatore ci sono altre associazioni, per esempio quelle che poi fanno capo a Libera oppure anche il Premi Lare Alpi, oggi il Diga, hanno attenzione su questi temi e non vorrei davvero dimenticarne nessuno. Quella del Piolatore è una storia interessante anche perché poi nasce proprio dallo spirito, dalla voglia di alcuni ragazzi di fare qualcosa. Quando e come è nato il Piolatore a Rimini? Formalmente l'associazione è nata nel 2011 quando ci siamo appunto costituiti formalmente. Di fatto abbiamo iniziato la nostra attività già qualche anno prima, in realtà non a Rimini ma parecchi chilometri più a sud, ovvero a Corleone. Avevamo partecipato io e altri ragazzi nel 2008 a questa bellissima esperienza che si chiama Liberarci dalle spine, ovvero i campi di lavoro e studio sui terreni confiscati alla mafia a Corleone appunto e Canicattì. È un'esperienza che nel corso degli anni si è ripetuta, quindi il 2009, il 2010 e via di seguito e successivamente tornati a Rimini ci siamo resi conto che non era sufficiente a nostro avviso quell'esperienza, quel tipo di esperienza non era sufficiente nemmeno aiutare a far conoscere l'esperienza della cooperativa tramite scene della legalità che abbiamo organizzato annualmente qui a Rimini o banchetti vendita dei prodotti che si ottenevano tramite il lavoro sui terreni confiscati ma appunto che fosse necessaria qualcosa di più. A quel punto abbiamo avvertito l'esigenza di sensibilizzare la cittadinanza riminese del territorio comunque della Romagna in senso ampio sul fenomeno mafioso. Pertanto appunto siamo partiti da un gruppo di amici e poi abbiamo esteso questo tipo di esperienza ad altri interessati, giovani comunque del territorio. Eravate amici di studio, amici di vicinanza? Sì, amici di vita. Tra l'altro alcuni di noi erano anche membri contemporaneamente di un gruppo di musica folk irlandese, Folli Folletti Folk, lo cito giusto così perché stiamo per tornare. E all'epoca fu interessante perché proprio per sponsorizzare, pubblicizzare l'esperienza della cooperativa Lavoro e non solo, che è appunto la cooperativa che ha in gestione a Corleone, Canicatì, Terreni, un tempo di Brusca, Rina, Provenzano. Ecco, prepariamo un tour musicale in collaborazione col GAP appunto per sponsorizzare questo tipo di esperienza ed effettivamente poi un tour che ci ha portato nelle varie regioni d'Italia, infine a Corleone, a Capodanno. Ecco, poi ci sono queste storie raccontate anche sul vostro sito che è gruppo antimafia-latorre.it Tra l'altro, per anche collocare in questi anni, perché proprio in quegli anni poi c'è stata anche la cronaca locale che ha portato a ribalta inchieste importanti, ecco, che è proprio, non dico esploso perché forse non era lì che covava sotto sotto da tempo, però c'è stata anche la ribalta per operazioni che hanno poi dimostrato l'attualità di quello che era anche l'impegno per la legalità nel nostro territorio. Ecco, come siete cresciuti insieme poi anche a quello che succedeva nel nostro territorio? Esattamente, proprio questo è il punto. Ci fu questa curiosità, insomma, della coincidenza tra la nostra nascita, l'inizio delle nostre attività ed effettivamente il concludersi di indagini importanti da parte delle forze dell'ordine riminesi e di varie direzioni distruttuali antimafia tra Bologna e Napoli, appunto, che hanno sicuramente aiutato a crescere l'asticella dell'attenzione verso il fenomeno mafioso tra la riviera romagnola e la Repubblica di San Marino. E noi abbiamo approfittato anche effettivamente dell'evolversi dell'utilizzo dei social network per cercare di fare informazione corretta. A nostro avviso c'è... E noi ecco, svolgiamo questa funzione anche di filtro tra appunto termini che spesso non sono alla portata di tutti e la cittadinanza. Cerchiamo di fare informazione corretta cercando di spiegare i termini di un'indagine, di un processo, la differenza tra sequestro, confisca, cercare di fare un'informazione corretta nel mare magnum che è appunto l'informazione di oggi che purtroppo giunge addosso al cittadino una mole di informazioni gigantesca che spesso e malvolentieri non è filtrata. Noi cerchiamo di fare appunto questo tipo di informazione senza né enfatizzare né minimizzare il fenomeno, cercando appunto di dare nei termini precisi ciò che realmente è. Inizialmente appunto seguendo queste indagini, dando aggiornamenti sulle vicende che avvenivano nel territorio e poi portandoli avanti nel senso che effettivamente è recente una sentenza che è stata emessa dal Tribunale di Rimini proprio su una di queste vicende che appunto all'epoca era conosciuta come Vulcano. Ecco, oggi il vostro nome comunque è riconosciuto, stimato e anche apprezzato per il lavoro che avete fatto. All'inizio quando provavate a farvi sentire comunque su questi temi, avete sentito dall'altra parte magari qualcuno che dice siete dei ragazzini, cosa ne volete sapere? E' sentrato nuovamente il punto ed effettivamente è così. All'epoca avevamo cercato di sollecitare oltretutto proprio poco prima delle precedenti amministrative, avevamo cercato di sollecitare le varie forze politiche invitandole ad affrontare per quanto di loro competenze ovviamente il tema del contrasto alle mafie e della promozione della legalità. E all'inizio quando dei ragazzi, all'epoca eravamo dei giovani universitari, comunque al secondo, primo, secondo o terzo anno di università ed effettivamente erano considerate poco più che dei ragazzi, quindi una pacca sulle spalle nella maggior parte dei casi. Poi comunque si cresce, si acquista credibilità nel momento in cui effettivamente si rende conto che si fa un'informazione corretta e si danno dei punti di vista seri e concreti sulla realtà che ci circonda. Anche anagraficamente ora siamo cresciuti e non veniamo effettivamente più scambiati come dei semplici ragazzi. Ecco, anche perché sempre per collocare nel periodo che è stato quello degli ultimi anni c'è stata anche la crescita un po' di questa consapevolezza di quello che significava infiltrazioni malavitose sul nostro territorio che non erano quelle che si vedevano, cioè siamo tutti cresciuti con la piovra sulla RAI, non era quella la malavita che ci dovevamo immaginare ma soprattutto quella che veniva qua per fare affari più che per regolare i conti e adesso lo diciamo piano ma dalla sparatoria di Riccione forse di episodi davvero cruenti me ne vengono in mente pochi. Nel 2005, febbraio 2005. Anche voi forse avete aiutato a far capire di che cosa stavamo parlando. Sì, questo era uno dei punti focali del nostro documentario Romagna Nostra Le mafie sbarcano in riviera Noi abbiamo cercato appunto cerchiamo di sfatare diversi miti durante la nostra attività diversi miti attorno all'immagine spesso distorta che è la società civile del fenomeno mafioso vero è che la mafia non è più solo quella della Coppola e della Lupara però nel documentario abbiamo evidenziato come sì effettivamente sono passati tanti anni più di dieci anni dall'episodio della sparatoria di Riccione dall'omicidio di Pinarella di Cervia tuttavia in ogni vicenda che è avvenuta sul territorio vicenda di criminalità organizzata effettivamente episodi di violenza comunque non sono mancati questo per dire arrivando al punto che in questo territorio chiaramente l'obiettivo l'obiettivo è quello di principale quello di riciclare denaro sporco e fare profitto in altre secondo altri canali tuttavia la violenza non manca non manca mai però è più anche attenta sicuramente minore esattamente minore di quella che si registra nelle regioni tradizionali questo è certo infatti non vogliamo nemmeno enfatizzare come dicevo prima questo dato ecco anche perché poi proprio leggendo anche il libro di Matteo Marini che era venuto a presentarlo qui nei nostri studi ecco anche lì emerge questa comunque attenzione a non dare troppo nell'occhio da parte di chi qui ha poi interessi un po' luschi abbiamo citato questo Romagna Nostra allora del 2013 dicembre 2013 allora vi riproponiamo il trailer poi ne torniamo a parlare il problema è che a Rimini c'erano già attività economiche in mano alla malavita organizzata e queste attività economiche avvengono in un contesto economico parimenese tutta questa attività era in funzione del riciclaggio il riciclaggio c'era già un sistema di intimidazioni di minacce e anche di rappresaglie vere e proprie della sua macchina va da San Marino a Bologna a prendere i borsoli di denaro da fare confluire nel credito sanmarinese io ho ricevuto una minaccia molto pesante una lettera con due proiettili presenza e del potere mafioso sul nostro territorio le mafie hanno più di un piede nelle nostre e nelle nostre zone l'ho cominciato negli ultimi tempi a utilizzare delle vere e proprie violenze la necessità dei clan di creare una struttura satellite per controllare gli affari in Emilia Romagna e nelle Marche le prefetture le questure gli organi diciamo di controllo di contrasto furono silenti furono silenziosi abbiamo visto per qualche secondo anche un attuale candidato a sindaco ma erano tempi non sospetti diciamo però di questo Romagna c'è anche questa interessante storia diciamo chiamiamola imprenditoriale perché una produzione dal basso che comunque poi ha avuto anche un suo esito in che modo abbiamo constatato che effettivamente le risorse per realizzare questo documentario non erano presenti insomma all'epoca quindi abbiamo deciso di ricorrere all'aiuto di coloro che ci seguivano di coloro che intendevano supportarci pertanto abbiamo siamo partiti con una campagna di crowdfunding su produzioni dal basso che appunto permette questo genere di iniziative e abbiamo chiesto di aiutarci tramite delle donazioni partendo da somme irrisorie fino appunto alla somma che taluno ritenevano di dover e di poter donare alla fine in poche settimane siamo riusciti a raggiungere la cifra effettivamente indicata e questo è sicuramente una grande soddisfazione anche perché a più di due anni di distanza se non erro siamo arrivati poi alla presentazione del documentario nel territorio in Emilia Romagna e non solo circa 60 presentazioni tra cui una all'estero San Marino e anche a Roma presso la Camera dei Deputati un'altra iniziativa che ricordo è quando portavate in piazza questi incontri che esperienza è stata questa anche quella è stata un'esperienza sicuramente molto soddisfacente vista la registrazione quanto la partecipazione del pubblico abbiamo ritenuto che organizzare incontri solamente all'interno di edifici chiusi al pubblico potesse essere un dato negativo perché comunque riduceva la presenza dei suoi interessati portare letteralmente in piazza perché poi effettivamente eravamo sui gradini di piazza di piazza Cavour e l'incontro con queste tematiche sicuramente non leggere è stata un'esperienza interessante in quanto le persone poi si fermavano anche solo per curiosità in realtà poi molte di queste rimanevano lì non non passavano oltre perché rimanevano effettivamente catturate dal tema che si andava a trattare un personaggio erano tutti personaggi interessanti uno che ti ha colpito particolarmente sicuramente è stata quando ad aprile del 2013 organizziamo l'incontro con Piff con Piff delle Iene ancora non è riuscito il suo film però era comunque conosciuto insomma come autore televisivo come inviato delle Iene è stato uno dei più riusciti poi comunque altri con il gruppo dei Modena City Ramblers e Salvo Vitale che fu uno dei compagni di Lotta di Peppino Impastato e quella fu oltretutto un'improvvisata perché non avevamo invitato Salvo Vitale era poco distante avrebbe avuto un incontro quella sera stessa a Ravenna e ci fece questa sorpresa e quindi anche effettivamente quell'incontro fu molto emozionante sotto questo profilo noi ci fermiamo per un attimo di pausa torniamo tra poco ancora con Patrick Wilde del GAP a Piola Torre ancora in onda con Patrick Wilde del gruppo antimafia a Piola Torre facciamo un passo indietro perché la scelta di Piola Torre questo diputato sindacalista che poi comunque anche leggendo un po' anche la vostra attenzione al tema dei beni confiscati magari si capisce qual è il filo che vi lega però perché avete voluto intitolare la vostra associazione a questo personaggio sì in effetti la volontà comune all'epoca di dedicare il nome della nostra realtà della nostra esperienza Piola Torre deriva proprio dall'esperienza dalla vita di Piola Torre Piola Torre che appunto fu il politico del PC che portò in Parlamento la legge che introduceva il reato di associazione delinquere di stampo mafioso e la conseguente confisca dei beni ai mafiosi avendo partecipato a un'esperienza che per noi è stata fondamentale per la nostra crescita è un'esperienza che peraltro consiglio a tutti i giovani e non ovvero quella dei campi di lavoro sui terreni confiscati dalla mafia abbiamo compreso l'importanza dell'aggressione ai patrimoni illeciti e la conseguente necessità di poi di ridestinarli alla collettività alla società civile e per questo motivo abbiamo pensato che tra le figure della lotta a mafia la nostra esperienza poteva e doveva essere legata quella di Piola Torre perché poi ai beni confiscati avete anche dedicato dei dossier se non sbaglio sì infatti proprio questa attenzione poi è sfociata è stata canalizzata appunto nei vari dossier che abbiamo realizzato nel corso del tempo il primo nel 2013 mi sembra successivamente altri aggiornamenti nei quali abbiamo censito questi i beni confiscati presenti nella provincia di Rimini registrando i vari passaggi dal sequestro alla confisca e tutti i problemi che che li riguardano non ci siamo sollimitati tuttavia ad un dossier cartaceo perché poi un'altra un'altra attività che abbiamo realizzato in realtà è portata a Rimini da una precedente esperienza di un'associazione romana con la quale collaboriamo e che stimiamo molto da sud e abbiamo portato a Rimini questa esperienza che abbiamo chiamato Riviera Mafia Tour portando fisicamente studenti delle scuole superiori della provincia di Rimini giornalisti interessati fisicamente sui luoghi della criminalità organizzata tra cesenatico e cattolica quindi tra i due estremi della provincia di Rimini anche se poi cesenatico ovviamente fa parte della provincia di Forli Cesena mostrando fisicamente quali sono questi posti perché spesso appunto si tende anche se magari viene scritto viene censito tramite un articolo un dossier se non si vede tocca fisicamente quel bene e ne si pensa sempre che le mafie siano qualcosa di distante da noi anche se poi questo dei beni è un tema complesso perché ci sono le leggi ci sono queste forze dell'ordine tribunali a volte le partite di tennis al quinto set insomma per arrivare poi tant'è che quando si riesce a completare questo percorso sembra un'impresa un po' sì mediamente secondo gli ultimi aggiornamenti il tempo il tempo medio è circa sei anni tuttavia noi abbiamo verificato come in diversi casi il tempo sia assolutamente più lungo uno dei casi più eclatanti anche se appunto non si trova nella provincia di Rimini ma è proprio contigua che è quella di Cesenatico dove si trova un bene si trovava perché è stato distrutto in realtà una villa un'ex colonia confiscata alla banda della Magliana cioè il suo tesoriere Enrico Nicoletti dalla data della confisca ad oggi sono passati sono passati più di quasi 15 anni quasi 15 anni anno più anno meno e ancora oggi non si non si trova una soluzione ed è un peccato perché altrove non solo al sud dove comunque appunto come dicevo inizialmente si lavora prettamente la terra altrove abbiamo tantissimi episodi di pratiche virtuose a Cervia in provincia di Ravenna si trova questo bene confiscato che ora è una casa per le donne vittime di violenza a Roma stanno predisponendo un ex bene della banda della Magliana come biblioteca quindi non ci sono chiaramente solo esempi negativi però anche altrove appunto sappiamo che ci sono pratiche virtuose che vanno quanto meno seguite proprio per cercare di dare una risposta e un seguito alla filosofia che ispirò la legge sulla confisca e poi quella sul riutilizzo dei beni ecco un'altra attività che è conducente in questo caso anche insieme ad altre associazioni della nostra regione è quella delle dossier sulle mafie in Emilia Romagna tra l'altro quella l'ultima diciamo edizione è proprio recente è tra l'altro online sul vostro sito e anche su quelle delle altre associazioni che collaborano allargando un po' ecco la panoramica dalla Romagna dove però dicevamo negli ultimi anni abbiamo scoperto purtroppo tante cose andando in Emilia soprattutto Emilia Letta con l'A e l'E all'inizio c'è anche lì poco da stare allegri sì il dossier si chiama tra la via Emilia con l'A latina e l'West che è il nome della è una doppia citazione tra un appunto tra un tra un album di Francesco Guccini e il nome che è stato dato dalle forze dell'ordine dei magistrati di Bologna alla più grossa operazione contro l'Andrangheta sul nostro territorio appunto l'indagine Emilia che fra meno di un mese inizierà il processo proprio Reggio Emilia il dibattimento con circa oltre 100 imputati si tratta di un aggiornamento in realtà di un dossier che era già uscito negli anni precedenti e abbiamo aggiornato in sostanza il materiale conoscitivo a disposizione grazie alla rete di collaborazione con altre realtà regionali con le quali in questi anni abbiamo iniziato appunto a collaborare il gruppo dello zuccherificio Ravenna ad est a Bologna appunto i ragazzi di cortocircuito a Reggio Emilia e tanti altri senza fare uno sgarbo a nessuno anche perché appunto si tratta di una rete molto dinamica che si scambia informazioni e si aggiorna continuamente proprio per cercare di stare al passo l'idea è quella di sfatare il mito della mafia ectoplasma che appunto spesso viene descritta come un fenomeno senza volto né nome noi appunto cerchiamo invece di attenerci agli atti giudiziari cercando come dicevo ho detto fino a poc'anzi cercando di fare informazione corretta quindi cercare di dare la misura esatta del fenomeno ecco per quanto riguarda lo specifico del nostro territorio che ha tutte le caratteristiche che sono state ricordate anche in questi anni ovvero economia comunque articolata ricca però anche per questo con tanti canali difficili da controllare la presenza di di San Marino ecco quello che poi ci si chiede è ce ne si è accorti negli ultimi anni non c'è non se ne è voluto parlare prima per non andare un po' a disturbare l'immagine di una riviera che comunque ha il suo immaginario da difendere che impressione vi siete fatti sicuramente è cambiato è cambiato radicalmente il quadro dopo gli ultimi dopo gli ultimi anni dal 2011 ad oggi è cambiata veramente tanto la situazione nel nel 2011 c'era chi ancora defineva una barzelletta definiva una barzelletta il fenomeno delle delle mafie sul nostro territorio minimizzandone in ogni situazione la la presenza la presenza ad oggi se qualche rappresentante del mondo politico negasse la presenza delle mafie nella nostra regione verrebbe scambiato per un pazzo proprio perché dal 2010 2011 ad oggi comunque anche dal punto di vista ovviamente sia giornalistico però anche giudiziario si è formato tanto materiale sul quale basare le proprie le proprie conoscenze non si può non si può semplicemente negare appunto che si sia sicuramente un territorio che ha tutte le caratteristiche per per essere aggredito dalla criminalità organizzata e se comunque negli anni le ci sono stati importanti importanti arresti importanti risultati da parte delle forze dell'ordine della magistratura questo non significa che poi un territorio diventi automaticamente immune da quel momento e per sempre le mafie è nella loro stessa natura si riorganizzano e magari ci vorrà tempo ci vorrà degli anni ci vorranno però prima o poi riusciranno a trovare il modo per aggirare le nuove normative e appunto i famosi anticorpi che la società civile quelli veri però la società civile riuscirà a mettere a mettere in campo quindi bisogna sempre tenere comunque alta l'attenzione a ciò che sta succedendo sul territorio da questo punto di vista sono molto importanti le segnalazioni degli stessi cittadini le forze dell'ordine non sono ovunque anche perché non hanno attualmente i fondi le possibilità per poterlo fare da questo punto di vista chi ritiene di essere vittima di violenza chi ritiene di essere oggetto di un'estorsione di racket e altri insomma soggetto a fenomeno mafioso deve fare denuncia deve segnalare questa situazione perché sono tantissimi casi in cui effettivamente si scopre successivamente indagini si portano a termine senza la denuncia di queste vittime poi un altro aspetto che ogni tanto emerge è anche quello di professionisti che più o meno inconsapevolmente magari si trovano a trattare capitali beni che forse andando un po' più a fondo si scoprirebbe che dietro c'è qualcosa di strano qual è il ruolo di questi colletti bianchi diciamo così insomma anche qui come si può far crescere la consapevolezza magari poi di persone che dico in qualche caso perché poi i casi sono sempre diversi si trovano poi forse anche situazioni più grandi di quello che pensavano perché essendo un'infiltrazione molto legata a questo giro di capitali forse anche lì ci vuole un'attenzione molto molto alta senza altro questo è il fulcro del nodo della questione e delle mafie sul nostro territorio cioè l'importanza dei professionisti a parte casi veramente isolati in cui vi sono organizzazioni che fanno meno di queste figure in tutti i restanti casi cioè nel 99% dei casi le mafie hanno bisogno comunque di figure professionali quindi avvocati notai funzionari di banca commercialisti eccetera 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 che possano da un lato consentire appunto alle mafie di penetrare sul territorio quindi dare loro gli strumenti tecnici appunto per farlo quindi far girare determinati capitali o fare realizzare determinati affari dall'altro effettivamente figure magari incensurate che non destano immediatamente l'attenzione sono sicuramente fondamentali per le organizzazioni mafiose e non è un caso appunto se ormai in tutte le recenti indagini quando vi sono degli arresti compare comunque sempre il nome di un professionista nell'indagine l'indagine emilia in questo è la riprova al di là degli esiti insomma di quello che sarà il processo degli esiti penali chiaramente ci dimostra l'attenzione che gli stessi ordini professionali debbano rivolgere ai propri iscritti proprio per tutelare la professionalità e curare un'attenzione e la delicatezza di queste condotte un altro versante delicato è stato quello degli appalti pubblici ecco da parte in questo caso ci sono state anche negli ultimi anni delle risposte anche in termini poi legislativi e in termini amministrativi significative da parte degli enti pubblici in questo va io credo vada riconosciuto anche merito in parte anche alla regione Emilia Romagna che a differenza di di tutte le altre regioni comunque ha dimostrato di essere pronta a emettere in campo degli strumenti per contrastare le mafie nel 2010 era stata fatta questa legge sugli appalti nel 2011 un'importante legge sulla sensibilizzazione e sull'apporto delle associazioni nella lotta alle mafie e ha cercato sempre di essere attenta adesso arriverà breve un testo unico sul terziario se non ricordo male sulla stessa linea cioè cercare di creare una sorta di testo unico di norme chiaramente armonizzate con le norme nazionali che possano aiutare a contrastare il fenomeno chiaramente come dicevo prima una legge comunque non è automaticamente il punto d'arrivo perché prima o poi comunque si riuscirà ad aggirarle pertanto bisogna sempre stare attenti bisogna sempre monitorare qualsiasi flusso di denaro qualsiasi vicenda appunto legata agli appalti pubblici o tutte insomma le opere del movimento terra e per quanto riguarda invece San Marino che si è scottata in diverse situazioni anche di recente avete visto dei segnali comunque anche d'altità insomma di provare a rispondere a situazioni che erano sfuggite di mano sì San Marino comunque non è una realtà molto diversa dall'Italia riproduce in parte i pregi dell'Italia in parte i vizi è un microcosmo a suo modo rispetto allo Stato italiano di sicuro negli anni precedenti al 2008 al 2010 è un dato di fatto che abbia fatto da calamita per i capitali per i capitali delle organizzazioni mafiosi ma non solo perché poi assieme ai capitali arrivavano fisicamente le persone legate a questi clan a queste famiglie di mafia e si sta lentamente adeguando sicuro anche agli standard europei e questo è un merito che va riconosciuto a San Marino tuttavia la stessa logica che abbiamo ripetuto fino a questo momento non ci si può mai accontentare del lavoro fatto ma occorre comunque sempre monitorare con attenzione l'evoluzione insomma delle vicende proprio per non ripetere gli errori del passato adesso si sta tuttavia comunque celebrando un processo importante che potrebbe potrebbe dire molto su quella che è stata la storia recente non solo della Repubblica di San Marino che è appunto quella sul cosiddetto conto Mazzini la cosiddetta tangentopoli san marinese che ha riguardato e ha portato all'arresto poi di importanti uomini di Stato della Repubblica ecco ci stiamo avviando alla conclusione ovviamente sono temi grandi che poi andrebbero approfonditi davvero con anche riflessioni e attenzioni quotidiane tornando al gruppo Piola Torre ecco comunque dopo questi anni non siete vecchi diciamo come associazione ma avete attraversato anche questi anni che sono stati importanti come abbiamo detto anche in questa trasmissione oggi di cosa vi sentite orgogliosi? Questa è una bella domanda io credo sicuramente non è per nessuno comunque deve appuntarsi ritenersi depositario di una verità assoluta la base sulla quale abbiamo costruito la nostra attività appunto è stata quella del porci il dubbio delle domande quindi cerchiamo comunque sempre costantemente di sollecitare anche noi stessi nel porci domande senza pensare di avere in mano la verità assoluta sotto un certo profilo crediamo però di avere contribuito quantomeno ad aver alzato l'asticella dell'attenzione del fenomeno del fenomeno mafioso sul nostro territorio abbiamo ricevuto anche per questa ragione abbiamo ricevuto diverse segnalazioni negli ultimi anni da parte di cittadini che si rivolgono a noi per porci all'attenzione alcune situazioni che a loro avviso potrebbero essere pericolose da attenzionare e questo effettivamente è quello che in parte vogliamo realizzare cioè porci come ponte tra come detto le forze dell'ordine le autorità e la società civile cercando di filtrare e fungendo da canale tra le due realtà c'è stato anche mi permetto di chiedere qualche errore di gioventù qualche situazione in cui forse siete andati un po' troppo in là oppure avete pensato poi forse avremmo potuto affrontarla in altro modo comunque sempre ragazzi siete sicuramente poi come detto alcuni di noi veniamo tutti da percorsi diversi chi magari è una formazione viene dall'università dalla facoltà di scienze politiche chi è una preparazione economica chi giuridica questo per dire che abbiamo cercato di mettere assieme tutte queste conoscenze per cercare di offrire il meglio insomma a chi ci seguiva la cittadinanza ovviamente questo non esclude che poi in passato magari mossi dall'impeto abbiamo ci siamo si siamo portati un po' più in là del dovuto tutto questo comunque sempre in buona fede ovviamente e c'è anche questo ruolo ecco forse non secondario però il fatto di essere comunque giovani di conoscere i nuovi mezzi di comunicazione che oggi non dico che conti più dei contenuti ma sapere come muoversi anche come diffondere oggi è fondamentale senza altro anche perché come sottolineavo un'opera utile potrebbe essere proprio quella di riuscire a contenere questo flusso di informazioni che magari per catturare qualche senza divagare per catturare qualche like in più qualche 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 seguace in più e si cerca di dare di enfatizzare sempre il fenomeno magari con titoli eclatanti che spesso usano utilizzano certi certi giornali certe fonti di informazione noi a costo di di rinunciare comunque di rinunciare di non di non guadagnare diciamo visite visualizzazioni e mi piace sotto questo profilo cerchiamo comunque di mantenere corretta il tipo di informazione che diamo poi chiaramente sicuramente questo ha contribuito lo stesso documentario non sarebbe stato possibile la realizzazione del documentario non sarebbe stato possibile senza l'utilizzo delle nuove tecnologie ecco l'ultima riflessione la facciamo di carattere anagrafico perché voi anche altre le altre realtà di cui parlavamo prima comunque ragazzi che hanno voglia hanno anche tempo perché poi a vent'anni è anche giusto è anche bello anche importante avere tempo poi si cresce arrivano professioni impegnative arrivano anche situazioni familiari nuove ecco c'è un po' di ricambio su questo insomma vedete forze nuove che hanno voglia di continuare a portare avanti il vostro lavoro che è un lavoro che è importante quindi anche un certo livello a questo punto c'è la responsabilità comunque di tenere alta quella sticella che abbiamo citato più volte il tentativo rimane sempre lo stesso cioè cercare di coinvolgere sempre più persone in quello che facciamo nell'attività che tanto ci appassiona io ho notato un po' una cosa negli ultimi in questi anni abbiamo fatto tanti incontri nelle scuole sia singolarmente come associazione comunque in tutto il territorio anche nella provincia di Forlice Sena e a Pesaro io personalmente mi sono reso conto che il discorso generazionale che spesso viene evocato cioè la distanza la differenza tra le generazioni d'oggi e quelle passate in realtà distorce non di poco la realtà delle cose io ho incontrato tanti ragazzi in moltissimi incontri che ponevano continuamente domande dubbi esponevano delle riflessioni a cui diciamo le persone più anziane non sarebbero mai arrivate e allora sotto questo profilo mi domando se non è tanto questione di queste nuove generazioni che non hanno più interessi ma al contrario non sia il problema dei punti di riferimento che sono venuti a mancare di punti di riferimento che non sono più in grado di stimolare gli interessi di questi ragazzi che invece sono lì e vorrebbero effettivamente fare qualcosa allora noi cogliamo anche come occasione per invitare chi ha voglia chi ha anche domande ad avvicinarsi a voi ma anche agli altri gruppi che nel nostro territorio lavorano hanno lavorato e continuano a impegnarsi per tenere alta l'attenzione sulla legalità io ringrazio Patrick Wilde per la curiosità ecco questo cognome un po' poco romagnolo da due diritti è mio padre inglese mio padre inglese e mia madre di Sant'Arcanzio di Romagna ecco comunque un curioso intreccio nella nostra terra di Romagna non come Oscar questa è la domanda classica insomma che viene e comunque attraverso te davvero un ringraziamento ai ragazzi del gruppo Pilatorre a tutti quelli che in questi anni hanno lavorato lavorano e speriamo che ci sia anche chi porterà avanti questi percorsi e poi comunque avremo spero altre occasioni per parlare delle vostre iniziative del vostro lavoro grazie ancora grazie a voi e grazie a voi per averci seguito grazie a voi